La lotta importante, bisognava prendere tanti punti durante le tappe, quindi chi vinceva la maglia del ciclamino vuol dire che aveva vinto anche tante tappe, aveva fatto bene. E qui è la volata di Bari, un'altra volatona, guardate il gruppo compatto, ancora Beppe Saronni davanti a tutti, guardate una serie di scatti incredibili e vince questa tappa sempre davanti a Francesco Moser e indossa questo punto. Grazie.